E' stato approvato dall'Aggiunta del Tricolle il progetto di riqualificazione dell'ex mercato coperto di Viale 25 Aprile. Lo stabile, che si sviluppa su più piani e che è stato realizzato negli anni 60, diventerà una cittadella della solidarietà nel cuore di Ariano Irpino. Il progetto è stato redatto dall'ingegnere Vincenzo Cardinale Ciccotti, tecnico del Comune, per un importo di quasi 7 milioni e 400 mila euro. In pratica, per trasformare l'ex mercato nella cittadella della solidarietà, si tratterà di portare avanti lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dell'immobile. Immobile che ha perso da tempo le funzioni per cui fu realizzato il mercato ortofrutticolo e che oggi versa in condizioni statiche precarie anche a causa dell'azione degli agenti atmosferici che nel tempo hanno parzialmente compromesso le strutture in cemento armato. Gli interventi trasformeranno l'ex mercato in una cittadella dove sarà possibile favorire il recupero di ex detenuti o ex tossicodipendenti o prestare aiuto a donne vittime di violenza o immigrati con status di rifugiati. Gli spazi programmati che si intende realizzare saranno disposti su quattro livelli per uno sviluppo complessivo di circa 3.000 metri quadrati, raccordati da uno spazio pubblico coperto che fungerà da piazza in diretto collegamento con il tessuto urbano storico. In particolare si prevede la realizzazione di residenze sociali dotate di servizi comuni quali lavanderia, sala pasti per l'allocazione di 40 persone. Poi ci sarà un asilo nido con servizi integrativi per la prima infanzia, dimensionato per soddisfare l'utenza del centro storico, spazi ludici e baby parking, consultorio sociale, spazi di networking, un incubatore di imprese per lo sviluppo di micro imprese con 10 laboratori e servizi comuni. E poi una buvette. L'intervento di rifunzionalizzazione sarà effettuato mediante l'utilizzo di tecnologie improntate all'efficientamento energetico, alla produzione di energia e al riuso delle acque, al fine di realizzare un edificio ecosostenibile e autonomo dal punto di vista energetico.